Il tatuaggio la Loretano sembra nasca nel XVI secolo. È una pratica connessa con il pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Le icone utilizzate sono tutte quante rotanti attorno all'immagine della Madonna di Loreto. Indagini ai confini del Sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8. Grazie per la visione!